processo di tostatura quando vogliamo testare o modificare una miscela di caffè cellini il nostro laboratorio qualità è in grado di replicare perfettamente il processo di tostatura industriale questo ci permette un controllo assoluto sul risultato finale definiamo esattamente la curva di tostatura migliore per ogni miscela la proviamo la assaggiamo e quindi impostiamo la produzione industriale per ottenere il risultato che desideriamo un sistema totalmente computerizzato una competenza totalmente artigianale testa e il cuore della nostra azienda per offrire oggi il caffè della tradizione italiana grazie a tutti Grazie a tutti.